Benvenuti a un nuovo video del Sistema Italiano e oggi per questo video breve parliamo di un software per Windows per gestire i dischi. Sigla! Oggi volevo parlarvi di iBoys Hop Disk Geeker for Windows che è un disco di un tool di gestione dei dischi adatto ovviamente a chi approccia a gestione dei sistemi operativi ancora all'inizio diciamo quindi va bene anche per gli esperti però è più adatto per chi è meno esperto e sta imparando magari appunto per gli saranno sistemisti e questo tool vi dà la possibilità di clonare i dischi, di analizzare lo spazio che è molto utile perché come sapete Windows non vi dà la possibilità di vedere la dimensione delle cartelle ma dovete fare proprietà su ogni cartella, cancellare in maniera sicura i dischi, immaginate di avere un disco vecchio che dovete sostituire o buttare con un SSD, quello vecchio lo potete cancellare con la cancellazione sicura e quindi non avreste la paura che qualcuno vi rubi dati. Può, cosa molto interessante, criptare i dischi con BitLocker, poi vedremo come funziona, cioè vi dà la possibilità di criptare i dischi in modo tale che se lo perdete il computer quello che c'è dentro nessuno lo potrà accedere al disco oppure potete bloccare il disco e fare in modo che per accederci ci voglia una password quindi utilissimo per nascondere dati riservati che non volete che chi utilizza il vostro computer possa vedere. Poi, test di velocità del disco, può rifare sites di partizioni e poi può recuperare partizioni perse. Qua ci sono tutte le features del software che potete leggervi con calma una per una, sono free disk cloning software quindi c'è anche la possibilità di clonare i dischi come abbiamo detto, analizza lo spazio e la velocità e le performance del disco, cancella i dati sicuri e come vi dicevo tutto il resto e qui potete scaricare il software direttamente dal sito e acquistare la licenza, poi vedremo i costi. Come vedete ci sono anche altri software di iboysoft. Quindi andiamo a cliccare sul tasto download, siamo sulla nostra macchina Windows dove proveremo il software, andiamo a scaricare la versione di prova e poi la attiviamo. Come vedete il setup è molto piccolo, sono circa 9 MB quindi è velocissimo a scaricarlo. Andiamo a estrarre la cartella, su questa macchina noi abbiamo un disco C che è il disco di sistema operativo, poi dovremmo avere due dischi aggiuntivi che non ho ancora formattato quindi vado a formattarli. Ok, gestione disco, inizializziamo tutti i due dischi, va bene in MBR va benissimo, sono due dischi da 5 GB giusto per fare delle prove. nuovo volume semplice sul primo, che sarà il disco E, quindi non è TFS, poi andiamo a fare nuovo volume semplice sul secondo, che sarà il disco F, sempre non è TFS. Ok, una volta che abbiamo i dischi possiamo provare a installare il software lanciando il suo setup. Come vedete l'installazione è semplicissima come tutti i software, basta andare avanti, in lingue abbiamo purtroppo solo l'inglese, ma a noi va benissimo. Quindi next, accettare, next, next, crea desktop icon, installa. Ok, lanciamo il software, a noi hanno fornito un codice demo per poter usare tutte le sue funzioni. Come vedete lui vi apre la pagina per comprare la licenza, l'edizione basic costa 29,95, la professional 89,95. In alto potete scaricare il manuale utente, una volta avviato il software, unlock full version e andiamo a incollare la nostra licenza. Come vedete già vi da le differenze tra la basic e la pro, la pro in più ha il clone bitlocker partition, clone has a bitlocker partition to private ransomware attacks e supporta Windows Server OS. Quindi diciamo che la versione basic è in grado di criptare le partizioni ma non di clonare quelle criptate. Per il resto avete le stesse funzioni. Una volta attivato il software avete tutte le funzioni sbloccate e come vedete potete clonare dischi, potete analizzare lo spazio, una funzione che useremo subito, quindi OS Partition Analysis. Andiamo a vedere la nostra partizione del sistema operativo C, quanto spazio occupa ogni singola cartella. Questo è molto comodo perché, come sapete, Windows non vi dice l'explorer resource e non vi fa vedere quanto spazio occupa ogni singola cartella, ma dovete fare ogni volta tasto destro proprietà sulle cartelle per capirlo. Se io vado su questo PC e vado su disco C, vedete che lui non mi dà la dimensione delle cartelle, mi dà 0. Quindi dovrei fare tasto destro proprietà e invece con Disk Geeker possiamo avere la proprietà delle cartelle e quindi tutte le dimensioni anche in tempo reale su un elenco che è molto comodo. Terminata l'analisi, come vedete avete tutto l'elenco delle cartelle del disco C con tutte le dimensioni. Quindi cliccando in una cartella noi possiamo andare a vedere anche le cartelle che ci sono all'interno, ogni dimensione. Possiamo drag and drop file, possiamo cancellare dei file trascinandoli qui. Abbiamo in alto a destra anche un riepilogo di total file, total spazio occupato di quella cartella. Se clicchiamo su visual mode mi fa vedere stile Mac una colonna per ogni livello, come vedete qua. Questa è una funzione molto interessante. Poi abbiamo la possibilità di criptare i dischi con BitLocker, quindi se noi andiamo per esempio sul disco E, che in questo momento non è criptato, andiamo a salvarci dentro innanzitutto un file, quindi andiamo sul nostro disco E, vado a fare nuova cartella, la chiamiamo cartella di test, dentro ci creiamo un file di testo, test, dentro ci scriviamo qualcosa, chiudiamo e salviamo il file. Adesso andiamo a criptare con questo software il disco E, quindi click to encrypt, andiamo a mettere una password per criptare il disco, che ci servirà poi anche per decriptarlo, altrimenti non potremo accedere ai file. La password deve avere almeno una lettera minuscola, vedete c'è scritto qua, numeri, spazi e simboli, next. Una volta messa la password, lui procede con l'encrypting, ci avviserà che non dobbiamo dimenticare la password, altrimenti non possiamo più aprire il disco. Quindi una volta che lui ha preparato il disco per l'encrypting, ci dice volete salvare il file con i codici di recupero, ovviamente voi direte di sì. Quindi andiamo a salvare il file sul nostro desktop, perché se dovessimo dimenticare la password, ci salviamo, diciamo, le chiappe con questo file. Quindi vado sul desktop, vado a fare conferma, e lui mi ha salvato un file, vedete, con i codici di ripristino del disco. Qualora dimenticassi la password, adesso vado su next, start encrypting, ovviamente questo dipende dalla dimensione del disco, il disco questo è di 5 giga, quindi ci metterà pochissimo a criptarlo, infatti vedete ha già finito, 100% close. Adesso se io torno indietro vedrò che il disco è criptato, chiudendo, deve lanciare un comando, pronto. Ecco qua, questa unità è protetta tramite BitLocker, quindi lui ha usato l'encrypting di BitLocker. Se io vado ad aprirmi le ProResource, vedrò che c'è sul disco E un lucchetto che ci dice che questo disco è criptato. Possiamo ovviamente accedere al disco, però se noi riapriamo BitLocker, una cosa interessante, scusatemi, se apriamo iBoys of DiskGear, possiamo tramite BitLocker anche bloccare il disco e impedirne l'accesso a chiunque, a meno che non abbia la password. Quindi è utile se vogliamo nascondere nel disco dei dati che non vogliamo che chi accede al nostro computer possa in qualche modo accedere anche a quei dati. Quindi io vado di nuovo su questo disco, come vedete ho cliccato sopra il lucchetto e il disco l'ho criptato, cioè l'ho bloccato, scusate, vedete? Adesso il disco qui, se io ci clicco sopra, lui mi chiede la password per sbloccarlo e accedere. Se non ho la password dimenticata, posso immettere la chiave che ho salvato prima. Quindi vado su sblocca e il disco è sbloccato e posso accedere tranquillamente al disco. Ovviamente posso poi clonare questo disco su F, non con la versione Basic, ma con la ProResource, visto che possiamo clonare i disc criptati. Poi abbiamo la funzione di cancellazione sicura dei dati e poi abbiamo una serie di tool tipo Resize Partition, Speed Test e Recovery Lost Partition. Quindi possiamo anche recuperare partizioni perse oppure fare uno Speed Test. Oppure abbiamo la possibilità di fare Resize Partition, quindi andiamo a provare a fare un Resize. Ecco, per esempio, vedete il mio disco C di 30 GB che è un po' piccolo. Se io adesso lo andassi ad aumentare o cambiassi, diciamo, sulla macchina virtuale la dimensione di questo disco, andando su Resize Partition del disco C potrei aumentare la partizione fino a una dimensione maggiore. Ovviamente adesso non lo posso fare perché il mio disco è di 30 GB e 30 è rimasto. Però volendo posso rimpicciolire o ingrandire, ma rimpicciolire in questo caso mi dice solo un po' perché lo spazio disponibile che ho è di 1 GB, quindi in questo caso non mi conviene farlo. Se avessi aumentato questo disco sulla mia macchina virtuale a 40 GB avrei potuto aumentare. Ok, questo è per recuperare partizioni perse, quindi se ho cancellato partizioni, e come vedete questo software è molto semplice, vi dà la possibilità di gestire in qualche modo il vostro computer. Ovviamente questo software è adatto non per sistemisti di livelli aziendali, perché ci sono tool di un livello maggiore, però questo software è molto utile per chi sta approcciando al mondo dei sistemi operativi, alla gestione di Windows, quindi appunto l'ho fatto nella sezione saranno sistemisti, oppure per gli utenti normali che non sanno gestire bene il computer, quindi con questo tool avete tutti gli strumenti fondamentali per poter gestire i vostri rischi. Per esempio se cambiate disco nel computer avete un disco magnetico e lo state sostituendo con un disco SSD, col clonadisco, che è questa funzione che vi ho fatto vedere prima, quindi clona, faccio clonadisco, io posso clonare come vedete un disco sorgente e un disco destinazione, posso mettere per esempio qua il disco C, qua ci metto invece qui sotto un disco nuovo che è SSD, ovviamente deve essere dimensioni uguali o maggiori e posso facilmente sostituire il mio disco magnetico con un disco SSD. Ragazzi che dire, l'ultima cosa che vi devo dire, il sito è questo qua, dove vedete come potete acquistare online la licenza, la scaricate e la attivate in maniera immediata, quindi da questo sito avete la possibilità di acquistare, scaricare il software e installare la licenza immediatamente, poi ovviamente iBoysoft ha anche altri software, se non sbaglio qualcosa anche per Mac, come vedete, che è molto utile. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e ricordatevi che senza sistemisti l'informatica non funziona. al prossimo video.